Un appuntamento ai quali i bialesi veramente sempre attendono con grande piacere del concerto degli auguri realizzato dall'Associazione Alpini di Biella. Vorrà anche essere una forma di ringraziamento per quanto le comunità ci hanno sempre seguito e apprezzato in questi anni e vuole anche essere veramente un augurio per tutti gli alpini della mia meravigliosa sezione, un segnale forte, noi ci siamo stati per 95 anni sul territorio ma siamo pronti a esserci per altrettanti anni. 95 anni, ci dobbiamo aspettare altre importanti novità per quest'anno? Beh, le intenzioni ci sono tutte, noi siamo una sezione fortunatamente viva, ultima riprova è la raccolta fondi per il terremoto realizzata dalla nostra sezione, proprio ieri abbiamo effettuato un altro versamento alla sede nazionale, a oggi in due mesi abbiamo già raccolto 44 mila euro. È una cifra importante calcolando la situazione anche economica del nostro territorio, ulteriore dimostrazione di quanto la gente apprezzi i nostri sforzi e anche un segnale... Tanti tendono a vedere noi alpini come quelli a cui piace mangiare e bere. È vero, a noi piace mangiare e bere. Innanzitutto non ci vedo nulla di male a trovarci insieme a un conviviale e poi noi, la nostra grande forza che è questo nostro mangiare e bere, io lo definisco da sempre il nostro stipendio, perché grazie a queste nostre iniziative culinarie, che sono il nostro stipendio, riusciamo poi a avere tutte queste grandi iniziative nel sociale, nella protezione civile e da qualche tempo per la nostra sezione anche nella cultura. Ma perché non c'è mai un raduno nazionale a Biella? Eh beh, questa è una bella domanda. Forse Biella ha perso il treno qualche anno fa, però mai dire mai. Eh beh, questa insomma è una risposta che apre proprio a possibili speranze. Sì, certo, guai, noi siamo molto fiduciosi nel nostro futuro come associazione nazionale alpini, in generale nel nazionale, ma anche nella nostra sezione, e quindi siamo pronti, noi vogliamo cavalcare il nostro futuro associativo e non subirlo passivamente, e quindi chi lo sa. Lunedì 9, lo ricordiamo, Presidente, allora ovviamente al Teatro Sociale Villane di Biella e? Ore 21, l'ingresso libero e al termine, come sempre, ci sarà un momento conviviale con la distribuzione di vin brulee, una fetta di panettone. Ricordiamo ancora anche chi magari non potesse raggiungere Biella al Teatro Sociale Villani, la diretta può seguire direttamente appunto in diretta televisiva su Rete Biella o Tele Biella questo evento. Mi dicevate anche in streaming per chi è nel mondo, perché l'Associazione Nazionale Alpini ha questa grande sua peculiarità, è l'Associazione Nazionale Alpini con sezioni e alpini in tutto il mondo, proprio prima si diceva, noi abbiamo 45 alpini che ricevono la nostra pubblicazione, il nostro Tuchun, che sono iscritti alla sezione di Biella, vanno dal Peru all'Australia e quindi anche loro avranno la possibilità di seguire questo sicuramente interessante e bel concerto.